Questa mostra è un po' il simbolo, il segnale che la vita può cambiare anche quando parebbe impossibile insomma. Sono assolutamente d'accordo con te, con questa premessa che i cambiamenti vanno anche cercati e voluti. Nella vita le persone cambiano, a me è successo dopo più di 50 anni di un'attività costituita fondamentalmente sulla gestione dei numeri e dei rischi per le compagnie di assicurazione di trovare ad un crocevia una vecchia cassetta di colori che mi avevano regalato addirittura la prima comunione. Devo dire che avevo sempre coltivato l'amore del colore che però era un amore molto irregolare fatto di alti e bassi. Quando ho smesso di lavorare mi sono reso conto che per arrivare da qualche parte e per dare una funzione a questa passione avevo bisogno di una guida e lì a Milano dove mi ero trasferito da parecchi anni già mi sono iscritto all'Accademia delle Belle Arte di Brera dove attualmente sto finendo oltretutto il biegno del Master e l'Accademia delle Belle Arte di Brera mi ha dato delle indicazioni ben precise di dove incanalare questo desiderio di colore che all'inizio veniva fuori come quasi un rigurgito, sconclusionato e senza capo né coda. La mostra che presento al MUMA che si inaugura domani è il frutto di tutta questa vicenda che è iniziata 5-6 anni fa e che mi riempie di soddisfazione in una dolce funzione. Primo perché rientra a Genova che è la mia città natale in questa veste tra regolette di artista. La seconda è perché sono cose, lavori che ho fatto apposta per il MUMA e che mi riempiono onestamente di soddisfazione e che spero possa essere valutata positivamente alle persone che vengono a visitarla. Cosa rappresenta questa mostra? Cosa c'è in questa mostra? Questa mostra è la prima mostra importante che io faccio, in un certo senso monografica perché parte da lavori vecchi fino a lavori nuovi ed è una mostra che permette, o perlomeno nelle intenzioni mie dovrebbe permettere al visitatore di viaggiare, di viaggiare con la sua mente dentro a queste mappe geografiche che hanno evidentemente attinenza con il mare, non a caso siamo qua al Museo del Mare ma che in realtà vanno al di là del mare, sono delle carte geografiche che vogliono spingere l'interlocutore, il visitatore andare dentro alle immagini che io in modo astratto rappresento per poter viaggiare, per poter uscire fuori dalla realtà. Che cos'è l'arte per lei? L'arte è un dono della natura che tutti abbiamo ma che solo poche persone riescono a manifestare e a tirar fuori. Fare l'artista è un lavoro serio, un lavoro impegnativo, un lavoro tutt'altro che facile. Poter poi arrivare ad un risultato, come mi auguro di essere riuscito ad arrivare in queste circostanze è qualcosa di inimmaginabile. Anche i materiali che hai usato sono molto particolari. Il materiale che ho usato sono molto particolari. Io lavoro soprattutto con questa polvere di pomice grezza che mi permette di esaltare il colore che rimane impresso nei granuli della pomice e privilegio ultimamente il supporto di carta. Ci sono i portolani che sono stati fatti su della carta che prendo da una vecchia cartiera di Amalfi che mi arriva su, sfrangiata come se fosse morsa dai topi ma in realtà nasce così e ultimamente i planisferi che sono alla mia spalla sono invece fatti su della carta indiana fatta con del cotone indiano e sono i planisferi.